La riviera dei Benedettini, un angolo della città che si affaccia sul tronco maestro del Bacchiglione, è agli occhi di molti sconosciuta. Pochi padovani che ricordano la presenza in questa parte di Padova tra riviera San Benedetto e riviera Mussat di tre antichi monasteri. L'occasione di scoprirli, o meglio di riscoprirli, sarà nella prossima fine settimana, con il nuovo appuntamento dell'iniziativa Amistà a Cuore organizzata dalla Diocesi di Padova. Ecco allora che si potranno visitare la chiesa di San Pietro con la vecchia parte della navata destra che ospita una perfetta ricostruzione della Santa Casa di Loreto e poi San Benedetto Vecchio e San Benedetto Novello è diventato un monastero della visitazione. I tre siti si legano anche perché conservano tre opere in terracotta, policroma, terracotte che difficilmente si conservano, si sono conservate per via di eventi, di fatti, di gusto che nel tempo hanno provocato anche la dispersione, la rottura. Sabato e domenica chi visiterà questi tre luoghi potrà vedere per la prima volta il restauro di una prestigiosa opera in terracotta, policroma. Il restauro del compianto sul Cristo morto, conservato nella chiesa di San Pietro, verrà presentato ai padovani. Il restauro del compianto alle nostre spalle è un restauro che ha visto impegnati gli addetti ai lavori per più di un anno e oggi ci viene restituito un'opera di assoluta straordinarietà, proprio perché è stato recuperato il più possibile il colore, la policromia originaria. L'opera di terracotta, raffigurante Cristo sorretto dalla Madonna e San Giovanni Battista, insieme ad altre due sculture recentemente restaurate, saranno anche protagoniste di una mostra nel 2020 al Museo Diocesano.